Siamo già sul traghetto del Palermo. Adesso cerchiamo un posto dove andare. Ancora. Allora, siamo ad Erice e siamo in altissimo. C'è un vento. Guardate come vanno veloci le nuvole. Sentite questo baccano? È il vento. Che coraggio a vivere qui dentro. Mamma mia, guarda là. Non è la prima volta che vedo immondizie un po' dappertutto qua in Sicilia. Non è la prima volta che vedo immondizie un po' dappertutto qua in Sicilia. Allora, se non mi ricordo bene la memoria, mi interessai a questo monumento qui, diversi anni fa. Invece di smaltire le macerie, ha utilizzato le macerie per creare questo labirinto, che poi in verità è una piantina della città. Questa è la mia spiegazione scientifica, davvero Angela. Guardate che paradiso, questo angolino qua e adesso mi sparo una bellissima foto. Sto aspettando che arriva l'antica del... dell'area di turismo. Non c'è nessuno. Nuovo giorno, nuova vita. Dopo il pantalone. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma che spettacolo! Ma che spettacolo! Guardate, sono tutti bravi. Dove salire? Guardate. 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 bello bello i pecculi ciao sotto le nuvole e qui tutto il cratere pazzesco non immaginavo in cima dove ho avuto una moto che si è scarburata quindi non andava più un po di disagi però alla fine ce l'ho fatta a salire e anche a scendere oh buongiorno sono pronto ho messo la telecamera qui tutti bellamente in giro senza neanche la mascherina sotto al mento come se niente fosse sulla riviera messinese la macchina più in voga e più di tendenza è e rimane il pandino 4x4 fatto dronata foto e lì si vede la calabria no non sono una crociera siamo scesi dal traghetto in moto da nord a sud sbarca in calabria qui ma poi serve il drone però la stampa ne parla ho consultato De Simone non c'è paragone amore lavoro affari invidio uno di scarica a cielo aperto ah però guardate che spettacolo da qua la calabria dove ero prima io e quella è la sicilia e valsa la pena eh avversare tutta la calabria per arrivare a vedere questo spettacolo abbiamo anche la foto sul tornante la gente che mi guarda male io sono fotografo io fate foto qual è il problema? capire? è il momento di fare con attenzione alla moto andiamo fuori la mia divisa eccola qua la moto è sistemata ho cambiato la candela è partita in un secondo decisamente meglio mi sembra ho sistemato la catena l'ho un po' ingrassata non mi sono fermato al bar quale bar potevo scegliere? non c'è nessuno se non è mio nessuno che mi rompe le palle non c'è nessuno l'ora di controllo abbiamo fame così il drone mi riprende mentre mi caga addosso vero? che non avevo mai provato nella mia vita le vertigini in moto però lo spettacolo del Cristo devo dire che merita il Cristo del dentone ho avuto le vertigini merita merita maratea ragazzi che bellezza che abbiamo che bellezza mi fermo anch'io a fare una foto perché ragazzi un altro tentativo di mangiare andato a vuoto ciao senti per caso hai qualcosa da mangiare di salato solo patatine eccomi qua sono arrivato è anche morto il casco della rudo mi ha distrutto il coro domani andiamo in costiera quindi a domani sono i 7 di mattina c'è il sole bellissimo fuori c'è un cielo stupendo pieno di nuve sembra un dipinto oggi è il turno della costiera amalfitana scoziello ciao carciofi i bellissimi carciofi della casa scoziello oggi è ingrassato la catena della moto e che è una cosa mamma mia il grosso duro attore ha fatto una moto nuova quindi sono molto soddisfatto tipo lui è pericolosissimo cioè li capisci subito quelli pericolosi qua come stai? vede? aspetta che mi tolgo il casco anch'io ci sto aggiudicato ti seguo a fare lassù e guidavo 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 con la moto sulle stradine della costiera e piegavo piegavo con l'olio sulla catena io capisco adesso perché tutti vengono da tutto il mondo qua che mi tolgo che mi tolgo In questo posto, dove stavo io, polizia, posto di blocco. Non mi fermo. Ieri la strada della Tiburtina ha mietuto le sue vittime. Il mio amato contachilometri è saltato. Che spettacolo bomazzo. Io c'ero già stato qui per fare un matrimonio. Siamo in un bosco spettuto tra Lazio e Umbria. E forse penso molto vicino alla Toscana. Stiamo facendo dentro e fuori dal Lazio in continuazione. Che strade! Un altro passaggio magico. Eccoci qui, siamo entrati nel primo tratto dell'eroica. Strada bianca. Scusi! Scusi! Senti, per Castiglion del Lago, dove passo? Sì! Eh, ma non credo, ci sono tutti... Sì! Per Castiglion del Bosco! Grazie! Sì! Sì! Ora dove è la stupida? Bella mi devo fermare, ecco! con una temperatura più gradevole sicuramente aspetta 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 c'è freddo 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 sempre detto evitiamo e invece e invece e invece non è che ci cattiamo ok eccoci qua Brianza 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 e comunque il mio giro in moto da nord a sud all'Ukrader su Instagram non mi resta che augurarvi di vedervi qua sul canale presto sul mio canale YouTube perché presto ci saranno nuovi contenuti ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.